Alberto Burioni Professor Burioni, buonasera Allora, diciamo Sì, sì, sparuti applausi, sono affettuosi dei nostri autori che sono qui presenti, gli unici qui presenti Allora, diciamo le cose a cui tiene in particolare Direi che una narrazione, seppur ascoltata ancora sino a ieri sui giornali e qualche giorno fa in televisione, è finita Non è un'influenza, lei lo dice dalla fine di gennaio quando ha cominciato a raccontarcelo Paragonare questo virus a un'influenza è come paragonare un petardo a una bomba a mano Questo virus non è un'influenza, ora è sotto gli occhi di tutti, centinaia di morti, le rinimazioni strapiene Questo virus non è un'influenza, possiamo negarlo se vogliamo, ma le cose non cambieranno Questo virus non è un'influenza Un'altra cosa che si è sentita dire, e che non è vera, e noi dobbiamo dirlo, secondo me, agli spettatori E che non si muore per il coronavirus, ma si muore con il coronavirus Ecco, io vorrei fare un esempio Un signore di 80 anni sta andando a giocare a carte con i suoi amici Come molti ottantenni ha magari la pressione alta Come molti ottantenni magari ha un po' di diabete che tiene sotto controllo con dei farmaci orali Ma è una persona che sta facendo una vita normale Questa persona viene investita da una bicicletta, ha una frattura di un osso della gamba, il femore E muore, muore Ma è morto per l'ipertensione? Magari è morto? No, è morto perché ha avuto una frattura Questo è il paragone Ora, non diciamo questa sciocchezza Purtroppo si muore per il coronavirus Muoiono più le persone deboli Come accade anche per la frattura del femore Chiaramente uno di vent'anni si riprende meglio Però non bariamo con le parole Perché poi induciamo nelle persone la convinzione errata Che questa malattia sia qualcosa che riguarda solo gli anziani e solo i malati Non è vero Non è vero perché C'è un terzo punto molto importante Il punto è che si stanno saturando le terapie intensive Nel momento in cui una terapia intensiva non ha più posti Prima di tutto non può più curare nuovi malati di coronavirus E la mortalità si alza Ma il guaio è un altro Che poi ci può essere un giovane di 25 anni Che cade dalla bicicletta, ha una frattura grave Oppure ha un incidente con l'automobile E dove lo mettiamo quello? Non lo possiamo curare Quindi se non blocchiamo questa epidemia Certo, questo discorso è fondamentale Quindi l'ultima cosa che è la più importante È che ci troviamo in una situazione complicata Non dobbiamo nascondercela Non dobbiamo minimizzarla L'unico modo che abbiamo per rallentare questa epidemia E rallentarla è importantissimo E rallentare i contatti E rallentare i contatti Non darci la mano per salutare Come abbiamo fatto noi Come ho fatto con l'Arcivesco Come diciamo da settimane Da prima degli spot Stare a casa il più possibile Fare poca vita sociale Io lo metterei in maniera più drastica Si esce di casa solo per quello che è indispensabile E quando si esce si sta attenti Si sta un metro dalle persone Ci si lava le mani Perché queste cose sono necessarie E sono particolarmente necessarie Nelle regioni dove ancora non c'è stato Un'esplosione dei casi Perché è lì che possiamo ancora Contenere Contenere Direzionare Ed avere un polmone Perché se poi saremo tutti saturi Come finiremo? E allora non dobbiamo prendere queste misure Come una limitazione della nostra libertà Io sento gente dire una frase molto brutta Ci vorrebbe la dittatura Ci vorrebbe la dittatura Hai visto i cinesi In realtà ci vorrebbe la resistenza E la responsabilità Perché un dittatore ce l'abbiamo già Ed è questo virus Che ci ha imposto dei cambiamenti di vita Pesantissimi E noi dobbiamo fare resistenza Come i partigiani Uno a uno Dobbiamo fare resistenza Perché questo è uno dei pochi casi In cui veramente uno vale uno Ognuno di noi deve fare la sua parte Per rallentare questa epidemia Lei starà con me a lungo questa sera Io non vedo il ministro Però vedo Di Bella Antonio? Antonio Di Bella? Eccomi qua Ecco scusa Antonio Buonasera direttore di Raiuso 24 Attraverso il ringraziamento a te Vorrei ringraziare tutti i nostri colleghi della Rai E se mi permetti anche i miei In particolare qui dello studio di Mecenate di Milano Dove insomma diciamo C'è una certa Insomma preoccupante E' una certa desolazione Quindi voglio dire grazie ragazzi A tutti voi Antonio Stavi ascoltando prima Mi pare di capire La traduzione del decreto Che cosa Che cosa possiamo dire con certezza Ma una cosa che possiamo dire con certezza Deve stare 14 giorni in quarantena volontaria E proprio anche la regione Liguria E' stata l'ultima Dove in alcune carceri C'è la limitazione Per il coronavirus Delle visite A Modena C'è stata una rivolta con due feriti Grazie direttore Grazie davvero A più tardi Mi dite quando c'è il ministro Speranza In collegamento Io nel frattempo volevo La festa della donna Insomma quindi Intanto auguri a tutte le signore che ci guardano Auguri a Filippa E auguri anche alla dottoressa Annalisa Malara Abbiamo imparato a conoscerla In questi giorni Lei è di Cremona Buonasera dottoressa Buonasera a tutti Lei abita a Lodi Abbiamo letto di lei sui giornali Perché lei è la dottoressa Che ha pensato di praticare Contro in realtà il protocollo Vigente Il tampone al cosiddetto Paziente 1 A Mattia E grazie a lei Hai scattato l'allarme E' così? Sì Diciamo che in turno Quel giorno c'ero io A Codogno In terapia intensiva E ho accolto io Il paziente In rianimazione E diciamo che Mi sono trovata di fronte A un ragazzo sano Atletico Con una polmonite Gravissima Che non stava rispondendo Alle terapie Fino a quel momento Attuato Lei sa come sta adesso? La pavia adesso? So che È stazionario Ecco Non ho notizie Più Più aggiornate Tra l'altro I genitori Di Mattia Sono Giusto Sono Di Codogno È così? Sì Lui è un ragazzo Di Codogno Sì Con famiglia E amici Di Codogno Lei non si è contagiata Intanto Una domanda No Ho fatto il tampone Sì Ho fatto il tampone Dopo pochi giorni Tampone negativo E non ho mai avuto sintomi Per fortuna Quindi ho potuto Continuare a lavorare Però lei ha fatto il tampone Che non era previsto Insomma Dal protocollo Cioè non era Poteva richiedere Il buon senso Ma non era previsto Non era una cosa Che si doveva fare Ma no Non si doveva fare Nel senso che il paziente Non era considerato Un paziente a rischio Dal protocollo Però ecco Di fronte a una gravità Simile Diciamo che Il protocollo Non ha precluso Ecco la possibilità Di Di andare avanti Nel processo diagnostico E anche per un caso del genere Non si può Non si poteva limitare Alle cause più Più probabili Dottoressa Io tra poco Vedo pronto Il ministro Speranza E quindi andrò da lui Ma prima le volevo fare Una domanda Volevo sapere Come sono le Come è la situazione Nel suo ospedale Appunto a Codogno Nel senso che È molto difficile Parlare con i medici Della Lombardia Come se ci fosse Una sorta di pudore Di premura Spero non di consegna Del silenzio Perché invece Secondo me sarebbe Molto importante Non solo parlarne Ma far vedere Anche fisicamente Che cosa succede Nelle rianimazioni A tutti coloro Che pensano Che sia solo un'influenza Che sia uno scherzo Che si possa andare A prendere l'aperitivo No Non è così Com'è la situazione E com'è la situazione Intensiva in particolare Sono momenti Sono momenti Questi non sono tempi Per polemiche Sono tempi Per darci Una mano In senso metaforico Quindi ci siamo Se avete bisogno di noi Contattateci Lei voleva fare una domanda Aveso Burioni Io volevo fare i complimenti A questa collega Perché molto spesso L'intuito di un medico È quello che sopperisce A delle carenze Noi Noi Pensavamo Che il virus qui Non ci fosse Perché ci dicevano Che il virus non c'era Mentre Invece il virus c'era Noi dicevamo Il rischio è zero Ma è perché È come dire Che uno non ha la febbre Perché non sarei misurata Certo E io sono personalmente Molto grato Alla dottoressa A questa collega Perché Grazie a lei Su questo Vorrei dire Una cosa Prego C'ero io Quel giorno A Codogno Potrebbe esserci un altro Però Ma noi attraverso di lei È un lavoro di squadra Ma noi attraverso di lei Vogliamo ringraziare Tutti i medici Tutti Assolutamente Tutti i medici Il nostro è un lavoro di squadra Quelli che ci sono Quelli che sono stati tagliati Dalle riforme della sanità Di questi anni Tutti quegli studenti Che non hanno potuto fare medicina Che c'è il numero chiuso Tante persone Che adesso si capiscono Ecco Come sempre Nei momenti di emergenza Il valore che avrebbero avuto Grazie dottoressa Grazie infinite Grazie a voi Buon lavoro Vedo collegato Il ministro Speranza Signor ministro Grazie intanto E buonasera 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 a tutti voi Grazie Avevamo proprio bisogno Di sentirla So che la stiamo cercando Lei lo sa Da settimane Capisco quanto sia impegnativo Il suo lavoro In questo momento Però vorremmo alcune L'occasione Per alcune domande Intanto vogliamo sapere Se il servizio sanitario nazionale In emergenza Cioè quanti posti ci sono Ancora nelle terapie intensive Della Lombardia Intendo Ma il servizio sanitario nazionale È un servizio nazionale Forte Io penso che Ci sono le condizioni Per dare un servizio Ancora positivo Agli italiani E il problema che abbiamo In questo momento È focalizzato In un'area geografica Ma quante sono Le terapie intensive Ministro Quanti posti ci sono Ancora in terapia intensiva Ci sono 5.000 Ci sono 5.350 posti A livello nazionale Ce ne sono 870 In Lombardia In Lombardia C'è una difficoltà Ma per una ragione Molto semplice Come è noto Lo si diceva prima Non è l'unica ragione Per cui si finisce In terapia intensiva Ma è per quello Che le chiedevo Quanti sono i posti liberi Quanti sono quelli liberi Non quanti sono quelli Di solito Insomma Disponibili Se ce ne sono ancora liberi Guardi Le segnalo Che in queste ore Stiamo dando disponibilità Da altre regioni Con un meccanismo Che è il meccanismo Cross Gestito dalla protezione civile Che consente Di liberare posti letto Su altre regioni Quindi vuol dire Che non ce ne sono più La Lombardia sta facendo Tutto quello che è possibile Per allargare Il numero Di posti letto In terapia intensiva Ma non solo In terapia intensiva Anche in terapia subintensiva Penso ai posti letto Certo In pneumologia In malattie infettive Per poter gestire Al meglio i pazienti Noi abbiamo Una rete nazionale Di reciproca solidarietà Questo credo che sia Il minimo In un paese Come l'Italia Per cui tutte le regioni Stanno mettendo A disposizione Loro posti letto Per dare una mano In questa fase Alla Lombardia Senta Si fa molta confusione Con un certo cinismo Anche sull'età Dei pazienti Colpiti da coronavirus Poi si leggono Sui giornali A Milano Si parla di bambini Per esempio Di una scuola Che si chiama Gattamelata Di Milano Che sarebbero Positivi C'è un'età Qual è l'età Delle persone Che sono ricoverate Nelle terapie intensive Perché sembra Che riguardi Con un certo cinismo Solo gli ultra 80 anni Ma non c'è cinismo Che possa essere accettato Di fronte a una situazione Del genere Per me Sono esseri umani E vanno rispettati Sempre tutti Non importa Sia i 90 anni Ma qual è l'età Qual è l'età Quanti sono i 50 anni Diciamo così Quanti sono Quelli che hanno Meno di 50 anni Nelle terapie intensive Ce ne sono Quanti sono E' un numero Molto minimale Molto residuale Stiamo parlando Di una percentuale Ad una sola cifra La stragrande maggioranza Delle persone Sono persone Dai 65 anni in su Con un picco Chiaramente Sopra i 75-80 anni Però io non credo Che questo sia sufficiente Diciamo per dare Giudizi leggeri La situazione è seria Va seguita Con la massima attenzione Le precauzioni Che abbiamo chiesto Le abbiamo chieste Con forza Tutti gli italiani Indipendentemente Dalla loro età E' chiaro Che c'è un'attenzione Ancora più grande Che va riservata Le persone più anziane Perché sono quelle Più deboli Sono quelle più indifese Sono quelle che di solito Hanno altre malattie Modestamente Sono qui con il professor Burioni E' dal 22 di gennaio Che stiamo dicendo Le stesse cose Adesso ci dicono Dite di lavare le mani Modestamente Insomma E' da un po' Che lo diciamo Il signor Ministro Ci vuole raccontare Una cosa Che è successa ieri E che davvero Non abbiamo capito Nella dinamica Lei avrà visto Come noi Tutti insomma Le riconoscono Il merito La sua negazione La sua onestà intellettuale Insomma Tutto quanto Tutti quanti Quindi Non c'è nessuna polemica Ma c'è l'esigenza Di capire Perché credo Ispirato anche Dalle parole Del presidente Mattarella Che il coraggio Della verità Sia Non solo La linea Che avete scelto Ma anche L'unica utile Per responsabilizzare I nostri concittadini E noi stessi Sino a ieri pomeriggio Weekend Di sole E' stato consentito Alle persone Di andare in montagna A sciare Le spiagge della Liguria Erano in vase I navigli di Milano Le piazze Le feste L'acquario di Genova Mi dicono Che fosse aperto E chissà Quanti altri luoghi In tutta Italia Poi improvvisamente Alle otto di sera Guardi Queste sono le fotografie Di ieri Alle otto di sera Scatta Scatta l'emergenza La chiusura Della Lombardia Peraltro Nel momento in cui Appunto Centinaia di miliardi di persone Sono in giro Per il weekend Che quindi Si sono preoccupate Come facciamo a tornare E quindi Si sono precipitati Macchine Stazioni Treni Creando un disagio ulteriore Ecco Che cosa è successo? Guardi In realtà Le direttive Date dal governo Sulla base Delle indicazioni Del nostro comitato Tecnico scientifico Che voglio Spiegarlo con chiarezza E costituito Da alcuni Dei migliori Scienziati italiani L'Istituto Superiore Di Sanità Il Consiglio Superiore Di Sanità L'Istituto Spallanzani Presidenti Di società scientifiche Di primissimo piano Che hanno Un'attinenza Con La materia Del coronavirus Sono quelli Che studiano Le misure Necessarie Io credo Che questo sia giusto Perché le scelte politiche Che stiamo facendo Sono scelte Che devono avere Un fondamento Di natura scientifica Non è la politica Che decide Che sono 14 giorni Di quarantena Per esempio Non è la politica Che decide Quali aree Sono soggette A determinate misure E quali no È un comitato Tecnico scientifico Che sulla base Di ricerche Di natura epidemiologica Fa delle valutazioni E indica Delle misure E queste misure Vengono poi Assunte dal governo Ma perché ieri sera Cos'è successo Improvvisamente Ieri sera Durante quel weekend Così affollato No Semplicemente Erano in scadenza Le ordinanze Che come è noto Scadono nella giornata Di oggi Il comitato tecnico scientifico Ha esaurito I propri lavori E questa documentazione È stata trasferita In un DPC Che sarebbe Un decreto Del presidente Del consiglio DPCM A quel punto Chiaramente Viene condiviso Con le regioni Il testo inizia A circolare E dentro Questa circolazione C'è stato chiaramente Un flusso Di informazioni Improprio Il presidente Del consiglio Conte Ieri ha usato Parole durissime E io penso Di condividerle Fin in fondo Però oggi Non è il momento Delle polemiche Io non starò Ne oggi Ne purtroppo domani Il responsabile Che ha fatto uscire Il mio unico impegno In queste ore 24 ore al giorno Per provare A dare una risposta Ai problemi seri Che abbiamo Sul tavolo Signor Ministro Noi facciamo il possibile Per dare una mano A lei E a tutti quanti Facendo il nostro mestiere Che ci riusciamo Speriamo Signor Ministro Senta C'è una domanda Lo apprezzo molto E quello che voglio dire Se me lo consente E che i provvedimenti Che stiamo prendendo Che sono provvedimenti Che comportano sacrifici Per le persone Soprattutto quelli Che comportano restrizioni Sono sicuramente utili Ci servono a guadagnare tempo Ci servono a contenere Altri provvedimenti Che abbiamo fatto In questa settimana Sono importanti Perché rafforzano I presidi sanitari Abbiamo messo in campo Risorse Assunzioni di personale Acquisto di nuovi Strumentazioni Che sono fondamentali Per gestire questa emergenza Ma non basta Un decreto Per vincere la partita Ecco Il mio messaggio È molto chiaro Abbiamo bisogno Di un impegno Individuale Di ciascun cittadino Noi possiamo fare Tutte le norme Che vogliamo Ma se non c'è Una presa Di coscienza Piena Da parte di ciascun cittadino Questa battaglia È molto complicata Da vincere Quando per esempio Scopriamo Che persone positive Decidono Diciamo Di andare in giro Per il nostro paese Pur sapendo Di comportare Un rischio enorme Per tanti altri Siamo di fronte Ad atteggiamenti Irresponsabili Che non possono In nessun modo Essere accettati E io penso Che abbiamo bisogno Di un pugno di ferro Di un messaggio Anche molto forte Rispetto a questo tipo Di atteggiamenti Guardi Noi chiediamo I nostri concittadini Di giocare con noi Questa partita Perché È chiaro Che il governo Le regioni Hanno una competenza Istituzionale E io sono per lavorare Insieme Gomito a gomito Senza alcuna polemica No deve stare A un metro di distanza Questa battaglia Si può vincere Solo con i cittadini Almeno lei A un metro di distanza Però Perché gomito a gomito Non si può Certo Giusto Meno male Senta signor Ministro No mi permetto Insomma La colloquialità Perché Insomma Credo che questo aiuti A Essere sereni Ma consapevoli Lei mi dato però Di una cosa Che Come dire Le normative O comunque Le indicazioni Ecco Diciamo così Sono state Molto ambigue Perché da una parte Si facevano vedere Gli aperitivi Per dire che andava tutto bene Poi il giorno dopo Arrivava la mascherina Poi si chiudono le discoteche Ma non si chiudono I bar Se non si non ha cert'ora Poi si lasciano aperti I ristoranti Insomma È chiaro che Si lascia dire È solo un'influenza Si lascia dire In televisione Sui giornali Dagli scienziati Insomma È complicato Per un cittadino Di normale Buonsenso Di stricarsi E capire Se stiamo esagerando Nell'allarmismo Se il professor Burioni O lei Sta esagerando Questa sera O se invece C'è una leggerezza Dall'altra parte Guardi Io capisco Questa valutazione Da parte del Ministero della Salute C'è stato un atteggiamento Di grandissimo rigore Sin dall'inizio No ma non mi riferisco A lei Per una comunicazione Che fosse la più seria E la più Determinata possibile Ci siamo resi conto Prima di altri Di qual era il rischio Io penso che Il livello dei controlli Che abbiamo messo In campo in Italia È stato tra i più alti E forse ci ha portato Ad essere uno Dei primi paesi Anche a scoprire L'esistenza di questo virus Come è evidente oggi Perché sotto gli occhi Di tutti Altri paesi europei Stanno prendendo La nostra stessa strada La Francia ha superato Ormai in maniera significativa I mille contagi È un grande problema globale Io penso che dobbiamo Dare messaggi univoci Molto molto netti E molto determinati Le indicazioni Che sono state date Ormai da settimane Sono indicazioni Molto chiare Abbiamo bisogno Che nel nostro paese Vengano rispettate Io mi arrabbio Quando vedo Assembramenti di persone Sono settimane Che diciamo Che bisogna stare attenti Non dare la mano Che bisogna tenere Questo metro di distanza È evidente Che ancora purtroppo Non c'è una piena consapevolezza E questo può farci pagare Un prezzo enorme Però mi permetta Di dire una cosa Io credo Nel nostro paese Io penso che Nei momenti di difficoltà L'Italia ha sempre La qualità La capacità Di tirar fuori Le energie migliori Dobbiamo farlo Anche in questo momento Certo Ma pur che il messaggio C'è una spinta Che va nella direzione giusta Questa campagna Di tanti artisti Uomini e donne Dello spettacolo I nostri infermieri I nostri medici Gli operatori sanitari C'è un mondo Che si sta battendo Ecco Dobbiamo stargli vicino Fare tutto quello Che è necessario Dare un messaggio Di consapevolezza Del pericolo Che c'è in campo Ma anche di grande forza Perché possiamo affrontarlo Sono decisivi Però oltre agli atti Del governo I comportamenti individuali Le posso chiedere Io penso che su questo Ci sia un ruolo fondamentale Anche nel sistema migliore Le posso chiedere Però due risposte Velocissime Perché sono due domande nette La prima è la seguente Divieto di uscire Dalla Lombardia Ma non ci sono Di fatto dei blocchi Anche perché sono 1500 km di confine Quindi sarebbe complicato Ma quindi Come si fa A essere certi Che poi Le persone non escano E non vadano Dove gli pare Guardi Noi siamo Siamo una grande democrazia Siamo un paese Aperto Liberale Con una grande opinione pubblica Io penso Che niente Possa essere escluso Ma che dobbiamo puntare Sulla persuasione Delle persone Lo abbiamo fatto In alcune aree In questo momento Non vedo Le condizioni Immediate Per cinturare Un'area territoriale In maniera militare Io vorrei avere Fin in fondo Fiducia Dei nostri concittadini Per questo è importante Condividere Diciamo Un messaggio Che sia un messaggio Di una sfida Comune Noi siamo Un grande paese Siamo di fronte A una situazione Inedita Anche qui Fazio Mi consenta Di dirlo Con la massima franchezza Nessuno Ha la bacchetta magica Nessuno Può fare miracoli Non ci sono Supereroi C'è l'impegno Di una collettività Che deve condividere Un orizzonte E io penso Che la strada Non è mettere Un poliziotto Di fronte alla casa Di ciascun cittadino Ma è di persuadere A comportamenti giusti Ministro C'è una notizia Che arriva dal Viminale Controlli Stazioni Aeroporti E strade Quindi in realtà Noi chiaramente Abbiamo Abbiamo dato Delle prescrizioni Rispetto alle prescrizioni Ci saranno Chiaramente Sanzioni Ci saranno Controlli Le nostre forze Dell'ordine Sono al lavoro Ma è inimmaginabile Pensare Che 19 milioni Di persone Vengono controllate Ciascuno Individualmente Da un poliziotto O da un agente L'arma che noi abbiamo È quella Di un messaggio Collettivo Che c'è una sfida Che riguarda Tutto il nostro paese È una prescrizione Certo Si tratta Di una prescrizione È un'indicazione Della ministra Morgese Ai partiti Lavoreremo Lavoreremo Perché Perché i controlli Siano serrati Ma questa battaglia Non si vince Con i decreti E con i controlli Si vince Se c'è una consapevolezza Comune E io vorrei Che lavorassimo Tutti insieme A questo obiettivo L'Italia è un paese Migliore di come viene Descritto Mostriamolo anche In questa occasione Devo chiedere Un'ultima cosa Ma una brevità Assoluta Per cortesia Molti si chiedono A rigor di logica Perché Non si fanno più tamponi A coloro che magari Visto che si dice Che è anche asintomatico Perché coloro che magari Hanno soltanto uno Dei sintomi richiesti Non è meglio Comunque Che facciano il tampone Perché non vengono fatti Il più Il maggior numero Di tamponi possibili Ma noi siamo il paese In questo momento D'Europa Che ha fatto il più alto Numero di tamponi E credo che questo Sia giusto Le direttive Perché non si fanno I tamponi Perché il tampone Non è sufficiente Il tampone Vorrei che sia chiaro Se mi dà un minuto Per spiegarlo È la fotografia Di un istante Non è la fotografia Del sempre L'incubazione Del virus Dura 14 giorni Per cui Se una persona Fa il tampone In uno di questi 14 giorni Ha l'illusione Di aver risolto Il problema La soluzione L'isolamento Non è il tampone Se una persona Ha avuto contatti Con un caso positivo Deve stare per 14 giorni In isolamento Solo in quel caso Avremo la certezza Che quella persona Sarà sana E non sarà positiva Se invece Noi pensiamo Di cavarcela Con un tampone Abbiamo l'illusione E la fotografia Del momento Ma poi semmai 24 ore dopo Da positivo Da negativo Diventa positivo Nel frattempo E' arrivato Un altro A flash Dal Viminale Arresto Fino a tre mesi Per chi viola Limiti a spostamenti Quindi in realtà Le misure Si stanno facendo Severe Io credo Che sia giusto Voglio essere Molto chiaro Il governo Deve fare Fin in fondo La propria parte Dobbiamo avere Il pugno Di ferro Atteggiamenti Irresponsabili Non sono consentiti Ma non basta Solo La matrice Securitaria Abbiamo bisogno Di una battaglia Di far capire Fin in fondo Che è una sfida Che riguarda tutti Non ce la faremo Solo con le sanzioni Abbiamo bisogno Di una consapevolezza Collettiva Di un grande paese Che vuol vincere Questa sfida E che può vincere Questa sfida Stanno arrivando Molte direttive Del Viminale In merito A quello che dicevo Che le ho appena detto Posso chiedere Alla fine Verrà rimosso Il varco di Codogno Lei sa qualcosa In merito? La valutazione Che viene fatta Dal nostro tavolo Tecnico scientifico Che abbiamo bisogno Di un'area Molto più larga Su cui intervenire Ed è chiaro Che far pagare Il prezzo Soltanto a un pezzetto Che ormai Non ha una grande Differenza epidemiologica Con altri pezzi Non ha un grandissimo senso Noi abbiamo allargato In maniera significativa Quest'area E il messaggio Di prevenzione Di precauzione Non può riguardare Solo quelle due aree Da cui siamo partiti Grazie signor Ministro Buon lavoro Siamo qua Se possiamo esservi utili Ci siamo Grazie per la franchezza Grazie Arrivederci Grazie signor Ministro Davvero a lei E ai suoi collaboratori Allora Tra poco ci colleghiamo Col presidente Malagò Che vedo pronto Presidente del CONI Ma io prima volevo Chiudere questa pagina Andando dal Sindaco di Castiglione D'Adda Costantino Pesatori Signor sindaco Mi sente Mi sente? Mi sente? No Il collegamento Non funziona Buonasera 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 Io la ringrazio Per questo minuto Che ci ha dedicato Lei ha lanciato Martedì un appello Su Youtube Dicendo Castiglione D'Adda Comune con 4.650 abitanti C'erano 112 persone contagiate 16 morti Un tasso altissimo Di letalità Non lasciateci soli Abbiamo bisogno di aiuto Non abbiamo medici Abbiamo un solo medico Venuto da Peraltro Da Bertonico Altro paese Che era nella zona rossa La situazione è migliorata? Di che cosa vi trattavo? Allora No La situazione non è migliorata Nonostante questo mio appello Perché Di fatto Il numero dei contagiati Ha aumentato Delle persone contagiate Ha aumentato Così come il numero Dei decessi Solo che Ad oggi Diciamo I ulteriori medici In supporto A quelli Che avevamo Non sono comunque Arrivati Di che cosa Di che cosa ha bisogno Quindi? Medici? Sostanzialmente I medici di base Perché Abbiamo praticamente Parecchie persone Che sono ancora A casa Ammalate E che non hanno La possibilità Di essere Visitate Era questo Un po' Il mio appello Senta In bocca al lupo A lei e ai suoi concittadini Posso aggiungere Posso aggiungere Una cosa Se mi è consentito Ecco Ho seguito Un po' I discorsi Che sono stati fatti I vari interventi Che sono stati fatti Io ritengo Che sia fondamentale È vero Appellarci A quello che è Il buonsenso Delle persone Io vivo Diciamo La realtà Di questa situazione E di fatto Abbiamo ancora Parecchia gente Che non segue Quelle che sono Queste misure Che devono essere adottate In via Precauzionale Per evitare Comunque il contagio Per cui L'appello che mi sento Di fare È giusto Per questo senso Di responsabilità A cui si accennava Siamo richiamati tutti Certo Esatto Siamo richiamati tutti Diciamo a questo State a casa Ad adottare queste misure Insomma Grazie molte Grazie signor sindaco Professor Burioni Adesso ci colleghiamo Grazie a lei Presidente del CONI Giovanni Malagò Che ringrazio tantissimo Buonasera presidente Buonasera a voi Grazie Grazie come sempre Per la sensibilità E la disponibilità Allora Intanto Immagino che Sentire tutti questi discorsi Faccia una certa impressione No? Sì molto Devo dire che Dire che fa riflettere Dire poco Poi Ho visto E ho ascoltato Ogni parola del ministro Speranza Mi ha colpito Delle tante cose Anche quell'immagine Del presidente Mattarella Alle sue spalle E questo divide Spesso Non solo Nell'immaginario Ma nella realtà Molte persone Molti ruoli Io mi accomuno A quella del ministro Speranza Perché a tutti gli effetti Siamo dei funzionari pubblici In realtà In questo momento Esattamente Come ha detto Il sindaco Di Castiglione Dada Paradossalmente Bisognerebbe tutti quanti Arrivare Ad avere Quel senso Di responsabilità Che non è più Del soggetto singolo Del privato Poi lo possiamo declinare Nello sport Che di fatto Purtroppo Abbiamo visto Che come Come lei Fazio Ha evidenziato prima Nei giorni scorsi Sembrava quasi Che questo allarme O non ci fosse O fosse stato preso In un modo Estremamente superficiale Da tante persone E quindi Diciamo che Qualcuno è uscito Dal recinto Dello steccato E probabilmente Ha complicato La situazione Presidente Malagò Il mondo del calcio Va avanti Ci sono state discussioni Si è molto discusso Circa le partite Tommasi Addirittura Presidente Relazione dei calciatori Damiano Tommasi Ha detto Sospendiamo le partite Non solo perché Se siamo all'asse Un giocatore Comunque Si dovrebbero Probabilmente Dovrebbe accadere Ma insomma Perché comunque Si ferma tutto Che il calcio Prosegua Ci sono due scuole di pensiero Da una parte È un sollievo Per chi può continuare A guardare le partite Dall'altra È una cosa Apparentemente Diciamo Distonica Ecco Qual è la sua opinione? Guardi Io qualche giorno fa Con diversi suoi colleghi Questa cosa È stata commentata Devo dire Mi sembra Decisamente In un modo positivo Mi sono esposto Su un giornale Di Direttura nazionale E ho detto La salute Prima di tutto Sapendo anche Magari Di Non dico Di perdere Qualche condivisione All'interno Del mio mondo E Poi c'è stata Questa Escalation Al negativo Lei stesso Ha cercato Di capire Cosa fosse successo Nella giornata Di ieri Per Per arrivare A questo famoso DPCM In tarda notte Poi con tutte le problematiche Sono sorte Sulla comunicazione Ma è un argomento Che non mi deve riguardare Lei mi ha fatto la domanda Sul calcio Sicuro che arrivavamo a questo E anche per quello Che è accaduto oggi In Lega Le partite Si gioca Non si gioca L'invito del ministro Spadafora La delibera Della Lega Una posizione Della federazione Quello che io posso dire A nome del comitato olimpio Che ricordo È a tutti gli effetti Anche statutari Atto costitutivo È la confederazione Delle federazioni Che è una cosa Che non si può vedere Non si può sentire Sotto ogni punto di vista Che ci sono dei campionati Che vanno avanti E altri no Che ci stanno Non so Una Lega di maschile Che chiede di giocare E la Lega femminile di no Campionati Tra virgolette Professionistici Devo dare atto su questo Che ad esempio Il basket Ha preso una posizione Oggettivamente in anticipo E al tempo stesso Direttanti Vede quello che è successo Sul grande movimento Dello sport Del calcio di base Certo Nelle zone Tra virgolette Considerate rosse Questo Non va bene Anche perché Ma come si può declinare Anche in termini di comunicazione Che la vita Di un grande campione Che guadagna Molti milioni di euro Vale di più rispetto a quello Scusate se ve lo dico Che si è Massacrato la schiena Di sacrifici Per quattro anni Io oggi ho scaricato Tre pile del mio cellulare Perché se le racconto Lei mi dica uno sport Io le racconto esattamente Che problemi Che ci sono In quello sport Di atleti Di atleti Che sono quattro anni Che stanno lottando Per la qualificazione olimpica Che stanno bloccati Negli aeroporti Che non riescono Ad andare a partire Per fare le gare Per fare le qualificazioni olimpiche Che non riescono A raggiungere le squadre Che nel frattempo Devono andare a perdere Competizioni Che sono indispensabili Perché il mondo va avanti È vero Che ho sentito Che altre nazioni Insomma Questo è un concetto Scusi se glielo dico Che vale per tutti Non c'è dubbio Sono totalmente d'accordo Io ho in testa Di venire in ufficio Di chiamare i presidenti Delle federazioni Che hanno Un momento univoco Anche perché Credo a questo punto Mi sembra che Il Coni abbia ripreso Il suo ruolo E di questo lo dico A prescindere Da il personale È per fermare il campionato È per fermare il campionato Insomma Mi pare di capire Questa sia la sua posizione Ma non è che il calcio può Questo è una Guardi Avere regole diverse dagli altri Vi faccio dire una cosa Così chiarisco anche All'opinione pubblica E a chi ci sta ascoltando Allora È molto importante Ok Da chi dipende Il campionato di calcio Dipende Come organizzazione Dalla Lega In questo caso Stiamo parlando Della Serie A Ma poi c'è la Lega di Serie B La Lega Pro La Lega di Direttanti La Lega di Direttanti Si è mostrato in certo modo Lega B e Lega Pro Hanno seguito Quello che sta succedendo Con la Lega di A In buona sostanza Ok Ma la Lega di A Non è la prima Mandataria Dell'organizzazione È su delega Della federazione Tutte le federazioni Hanno il boccino in mano Di dire Ok Io ti faccio organizzare Questa competizione Quindi oggi Il consiglio della Lega Che ha preso la decisione Giusto o sbagliata Sicuramente non ha tenuto conto Dell'invito di Spatafora È una loro scelta Però se ne assumono Le responsabilità Chiarissimo Devo dire che il DPCM Su questo Glielo dava Glielo riconosceva Bisogna darne atto A questo punto La federazione Che martedì Convoca un consiglio federale Può fare due cose Non ce ne sono altro Conferma Quello che sono Le volontà Della Lega di A Di andare avanti E di conseguenza Se ne assume Nel bene o nel male Ogni responsabilità Che il loro diritto E dovere Oppure nel caso contrario Se non è d'accordo Praticamente Deve commissariare La Lega di A Perché ritiene Che siccome è solo Per ordinare l'amministrazione Qui c'è una scelta diversa Lo deve fare Io penso E se vuole Gli do una mano Che è una cosa Che teoricamente Io potrei dire Signori sono affari vostri Io me ne chiamo fuori Non lo trovo giusto Ritorno al concetto pubblico Io dico che tutti quanti Dal calcio Alla pala canestro Dalla pala a volo All'occhio a rotelle Dal baseball Che già si è mosso All'occhio su ghiaccio E tutti gli altri sport Scusate Devono andare nella stessa direzione Mi sembra che il paese Lo stia chiedendo Non ci sono Nessun altro tipo di margine A questi ragionamenti Presidente Dal mio punto di vista È un piacere Apprezzare la sua chiarezza Devo dire sempre Le fa onore Perché è una cosa molto rara Tra poco Ecco vedo pronto Il capo della protezione civile Il dottor Borrelli Però le vorrei fare ancora Due domande Presidente Malagò La prima È se Gli europei di calcio Sono a rischio Secondo lei La seconda Sulle olimpiadi Ovviamente Gli europei di calcio Gli europei di calcio Sono organizzati Dall'UEFA La cerimonia inaugurale Ovviamente Come sapete È il 12 di giugno E qui Giustamente Il professor Burioni Dice Devono essere i tecnici In particolare Come ha confermato Il ministro Speranza Questa commissione Di grandi esperti Tecno-scientivi Devono fare valutazioni Non so questo picco Quando arriverà Non so quando ci saranno I numeri Che saranno Non si può dire nulla Non al positivo Non al negativo Non sarei serio Se rispondessi E sulle olimpiadi Ha qualche Sentore in più? Sulle olimpiadi Anche in virtù Del Del mio ruolo Come membro del CIO Le voglio dire L'obiettivo Lo dico con grande onestà E a questo momento È anche una certezza Una garanzia È di Ovviamente Di svolgerle Non c'è nessuna Controindicazione E soprattutto Cosa il CIO Vuole a tutti gli effetti Confermare E dimostrare Che il Giappone È un'isola Il Giappone Non mi sembra Che ci sono dei casi Conclamati Mi sembra che ci fu La famosa barca La nave Che aveva Quei problemi Difficile prevederlo adesso C'è diversi italiani Certo Bravo Quello che le dico L'obiettivo Secondo me È anche una garanzia È quella di avere Un concetto E dalle olimpiadi Forse si può ripartire Di avere Dei giochi Virus free Cioè a tutti gli effetti Con la garanzia Che ci sia la possibilità Di ricominciare Il mondo normale A partire da quello Che è stato il simbolo Da sempre Dunque Grazie 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 Presidente Malagò C'è una ultima domanda Del professor Burioni Che le voleva dire Prego Io abbiamo parlato Dello sport professionistico E semi professionistico Io direi di parlare Di tutto lo sport Anche quello Fatto dai ragazzini Ah ma certo Ecco In questo momento Io ritengo Che sia serio dire Però dipende dal conto Sì Però sia importante Dire a tutti E penso che lo debba dire Anche chi Simboleggia lo sport Che in questo istante Le aggregazioni Anche fatte per direttirsi Sono pericolose In tutta Italia Non c'è famiglia Come la mia Come chiunque Abbia figli Che fanno sport E questa vicenda Sta incidendo enormemente Con grandi sacrifici Sulla vita di tutti I nostri figli Le delusioni Tanta attesa Tanto allenamento Tanta fatica Che apparentemente Sembra dispersa Il presidente Malagò È stato chiarissimo Presidente Alla prossima Quando vuole Grazie Grazie a voi Grazie presidente Buon lavoro Buon tutto Grazie Allora Dottor Borrelli Capo della protezione civile L'uomo che io credo Sia meno invidiato Al mondo In questo momento Buonasera Dottor Borrelli Perché lei da una parte Ha gli scienziati Dall'altra La politica E in mezzo C'è un'istituzione Che è la protezione civile Che non ha Diciamo Implicazioni sanitarie Per lo più Si occupa di organizzazione Di altro Tanto come si trova Come va La collaborazione Con gli altri due Imane La collaborazione Con gli altri due Va molto bene Noi come Dipartimento Della protezione civile Come sistema Di protezione civile Siamo abituati A lavorare Con tutti E stiamo facendo La nostra parte Quello di supportare Da un lato Soprattutto L'organizzazione Del sistema sanitario Sistema sanitario Nazionale E regionale Con quello Che può servire Per incrementare Anche L'offerta Di cura Dei cittadini Che sono colpiti Dal coronavirus A questo proposito Le volevo fare proprio Tanto vedo il presidente Del Parlamento europeo David Sassoli Che è pronto Per il collegamento Volevo fare una domanda A proposito Dottor Borrelli Si dice Che manchino Attrezzature Respiratori Ossigeno È una cosa Che corrisponde al vero O è un allarme eccessivo Abbiamo letto Addirittura oggi Su alcune prime pagine Dei giornali Delle cose drammatiche Tipo Si dovrà scegliere In qualche modo A chi rivolgersi Fra i malati Fra i pazienti Non tutti potranno avere cura È un eccesso È un eccesso di allarmismo Lei ci può dire qualcosa di più? No È un rischio Un rischio reale Ma noi stiamo lavorando Per potenziare le strutture Ieri abbiamo siglato Un contratto Che prevede subito La fornitura immediata Da domani mattina Di 320 respiratori Nella regione Lombardia Piemonte E Veneto Abbiamo anche Fatto In questo contratto Previsto la consegna Di 500 respiratori Al mese E La Consip Che ci sta dando Un aiuto Domani chiuderà La gara Per l'acquisto Di altri 5.000 respiratori Noi stiamo Dotando Il Servizio Sanitario Nazionale Quello regionale Delle strumentazioni Che servono Con le regole Con le nostre Procedure Che sono Procedure Di urgenza E dall'altro lato Qualora si manifesti L'esigenza Lo abbiamo già fatto A partire Da questa notte Prendendo I pazienti Che sono Negli ospedali De Lombardia E andandoli A dislocare Nelle altre regioni Attraverso Quel meccanismo Di solidarietà Che abbiamo Nel sistema Di protezione civile Che è La famosa CROSS La centrale remota Di soccorso sanitario Ci si aspetta Una crescita Dei casi Vero professor Burioni Nei giorni a venire Purtroppo sì E proprio per questo Per non mettere in ulteriore Difficoltà Il sistema sanitario E per dare tempo A questi respiratori Di entrare in funzione Noi dobbiamo fare Di tutto Per rallentare Quest'epidemia Stiamo a un metro di distanza Laviamoci le mani Non facciamo cose E stare a casa Stiamo a casa Stiamo a casa Più che si può Non so se ha sentito Io ho chiesto prima Al ministro Speranza Insomma Molti trovano strano Che non si facciano più tamponi Anche lei condivide Quello che ha detto il ministro Dottor Borrelli Cioè È inutile Perché dopo Quattro anni Credo che siamo arrivati I tamponi si fanno Siamo arrivati a 50.000 tamponi Credo che I tamponi Vengano fatti Coerentemente Con quelle che sono Le indicazioni Dell'organizzazione mondiale Della sanità Quindi siamo Perfettamente allineati Con gli altri paesi E qualora servono Vengono effettuati Non abbiamo difficoltà A trovare Il materiale Per fare i tamponi Quindi Non vedo criticità Sotto questo profilo Un'ultima cosa Ci dice qualcosa Su questi varchi Alla fine Perché ci sono stati Anche lei Il professor Borrelli È critico Cioè dice Perché riaprire Le zone Mi dispiace molto Per quelli che ci stanno Ascoltando da lì Che hanno fatto Un enorme sacrificio Ma perché solo Dopo due settimane Riaprire le zone Anche lei dice Che è una cosa Che secondo lei Non ha funzione Soprattutto se non c'è Poi un blocco Successivo Perché se poi Queste persone Possono andare in giro Liberamente per l'Italia Che dice Dottor Borrelli No Io credo Che la chiusura Abbia fatto effetto Lo dimostrano i dati Relativamente Ai contagiati Nel perimetro Dell'area rossa Che non è cresciuto Con numeri esponenziali Come dalle altre parti Ma perché riaprirli Perché di fatto Lì abbiamo visto Che non c'è Un effetto Esponenziale Del contagio Quindi secondo me È stato bene Riaprirli Ed è stato bene Adottare invece Delle misure Precauzionali Nel resto Della regione Lombardia Nelle altre province Che hanno Numeri di casi Crescenti Quindi Si è adeguato Rispetto a quello Che è l'evoluzione Dell'epidemia Le misure Sul territorio Grazie Dottor Borrelli Io l'aspetto Domenica prossima Lo sa che Ormai è una condanna Questa Ci dobbiamo vedere Però ci conforta Molto Saperla lì Grazie Dottor Borrelli E buon lavoro Grazie A lei e ai suoi Grazie